I loro corpi sono stati ritrovati nella notte, poco dopo le 2, alla base della parete del piccolo Mangart di Coritenza, a 4.600 metri, tra le Alpi Giulie. Giulio Alberto Pacchione, nato a Reggio Emilia, era originario della provincia di Teramo, di Silvimarina. Lorenzo Paroni, di 20 anni, era nato a Pordenone, ma originario di Montereale e Valcellina. Entrambi erano finanzieri in forza alla caserma della Guardia di Finanza, Tarvisiana. I due stavano risalendo la via Piussi, una via di sesto grado che percorre la verticale nord del monte. I due giovani erano in attività ufficiale di addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma nella serata di ieri. Si tratta dunque di un incidente in servizio, in quanto tale è al vaglio della procura di Udine che ha aperto un'inchiesta. Proprio per la difficoltà della via e per il fatto che le capacità dei due erano ben note, l'allarme sul mancato rientro dei due alpinisti è scattato solo in tarda a serata. Entrambi facevano parte anche della stazione di cave del Predi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Lorenzo era a tutti gli effetti già un tecnico del Kinsas, mentre Giulio era un aspirante soccorritore e avrebbe dovuto a breve sostenere l'esame d'ingresso nel corpo. La dinamica dell'incidente al vaglio degli inquirenti, ma una prima valutazione, porta a pensare si sia trattato di una tragica fatalità scatenata da cause oggettive e ambientali con un probabile crollo o distacco dall'alto che ha trascinato entrambi gli alpinisti. Impossibile al momento valutare l'ora dell'incidente e a che punto della parete sia avvenuto. I due giovani finanziari non risultavano raggiungibili né tramite dispositivi telefonici né attraverso i dispositivi radio che avevano al seguito. I colleghi in caserma hanno iniziato a preoccuparsi, attorno alla mezzanotte si sono portati ai laghi di Fusine e poi nei pressi del rifugio Zacchi, dove era stato parcheggiato il loro mezzo. Una volta raggiunti a piedi alla base della parete c'è stata la triste scoperta che lascia presupporre ad una caduta di diverse decine di metri. Il recupero dei corpi, ancora legati in cordata, è avvenuto nella mattinata di oggi. La preparazione di entrambi era di altissimo livello, raccontano dal soccorso alpino. Entrambi conoscevano le pareti rocciose del Mangart, dove avevano tra l'altro già salito il temibile e famoso Diedro Cozzolino, una delle vie più difficili delle Alpi. Giulio era anche maestro di scia a Tarvisio. A Lorenzo mancava solamente un esame per diventare guida alpina.